Musica Dal ristorante La Rete di Pescara di Paolo Minucci ben trovati con il nostro programma che oggi ospita o per meglio dire torna ad ospitare l'amico Gianfranco Semproni tra i più popolari commentatori televisivi, opinionista sportivo e tra poco arriverà anche del buon vino della direzione di questo locale ecco subito pronto l'amico Bruno Gianzante che gestisce a conduzione familiare questo esercizio di ristorazione del ristorante La Rete nel pieno centro di Pescara a quattro passi proprio dalla sede Rai, lo possiamo dire, in Via dei Amici siamo davvero di casa da queste parti e ci torniamo sempre molto volentieri perché è un ristorante che propone la buona cucina marinara il buon pesce fresco del mare adriatico di scena tutti i giorni a pranzo e a cena qui al ristorante La Rete di Pescara e con dell'ottimo vino vorrei subito brindare con Gianfranco Semproni alla faccia di chi ci vuole male così si fa, benissimo e tanti auguri a Bruno Gianzante a Bruno che è un amico d'infanzia che abbiamo un po' rimembrato alcuni episodi della vita siete stati giocatori con il Città Sant'Angelo, con la formazione angolana quando Gianfranco Semproni era un talentuoso calciatore infatti come la gente da fastidio che io avevo questo talento proprio anche oggi che sono un po' anziano lui ha raccontato un episodio stupendo siccome io ero il ragazzo più veloce della sua Città Sant'Angelo tutti mi sfidavano e lui mi ha raccontato di una sfida che mi voleva sfidare nei cento metri tra campo e campo di Città Sant'Angelo capite? si si ma non il lato più corto ma il lato più lungo e allora sembrerebbe chiesto ma dove ti presenti che te ci corre una cosa sola però lui siccome era velocissimo, una bellissima ala allora lui giocava ala come poi Romanelli ed era molto molto prima di darsi al ciclismo prima di darsi al ciclismo perché attualmente continua a correre con la bicicletta ma infatti il fisico lo dimostra che qualcosa lo incontro spesso e volentieri per le vie di Pescara e non solo anche quindi abbiamo fatto questa gara e poi si ho detto, siccome non me la ricordavo si ho detto prima appena sono entrato come hai da finire la gara? no, siamo arrivati praticamente alla pare come alla pare? come? io ci si corre no ma tu stenevi la palla cioè tu andavi con la palla e io senza palla e io senza palla e mi arrivate a pare frega, da allora ero veloce veramente questo è un bellissimo episodio vedi un bellissimo ricordo tanto per dire che tipo di velocità avevo e poi il padre Terno mi aveva dato una mazzata enorme avevo questa gamba destra col sinistro ci camminavo solamente però avevo questa gamba destra che terebbe certe botte e di testa ero anche molto bravo visto che considerate che sono sardo sono aperta una frega di crani praticamente purtroppo, purtroppo siccome mi ha raccontato Bruno Giansante titolare responsabile del ristorante La Rete di Pescara che Gianfranco Semproni era davvero un talento ma allora perché non ha fatto carriera nel calcio? cos'è mancato? perché purtroppo è mancata quella fortuna quelle occasioni favorevoli qualcuno che mi potesse vedere di una grossa squadra niente era una grande sfortuna perché io il calcio ce l'avevo nel sangue proprio io dormivo col pallone da ragazzino però purtroppo nella vita è così certe volte vanno avanti capito chi forse non merita ed altri stanno al palo e la vita probabilmente dovevo fare una vita non da calciatore ma da vita diciamo così da uomo di famiglia amante dei principi degli ideali di tutte queste cose qua e non ho avuto questa fortuna di poter giocare al calcio ma dei campioni del calcio attuale a chi assomigliava Gianfranco Semproni? giusto per dare un'indicazione un riferimento intanto io assaggio il buon pesce fresco diciamo forse mi avvicinavano molto a Boninsegna a Boninsegna a Roberto a Roberto Boninsegna come centravanti capito sia come cattiveria come tutto insomma però ecco ognuno ha la propria personalità è chiaro poi quando sono diventato grande non è che ho avuto la fortuna di giocare ho giocato a livello delintantistico ma niente di che purtroppo questa passione poi è subentrata anche una grande malinconia e vi discorre che poi ho ripreso praticamente avevo lasciato qualsiasi tipo di sport perché poi mio padre ci trasferì da Città Sant'Angelo a Pescara da quegli amici che avevo come Bruno tanti ragazzi eravamo tutti ragazzini che ci volevamo un bene della Madonna perché per un ragazzo la vita di paese credo che sia la più sana oggi forse anche queste tutte queste droghe sono arrivate anche nei paesi e quindi questi poveri giovani è molto molto duro però allora avevamo solamente il pallone le riunioni le corse tra di noi una vita più sana molto sana assaggi pure questi antipasti e i frutti di mare che ci hanno proposto e ci stanno proponendo gli amici del ristorante della rete di Pescara devo dire è talmente bello questa composizione che ti ha paura pure a mangiare è proprio è proprio vero è proprio il caso di dire così Gianbrango Semproni allora da mancato campione del calcio a opinionista televisivo affermato come è nato tutto ciò? ma quello è nato proprio da questa grande passione quando allora io dicevo mio padre mi trasferire ci trasferiremo il 13 agosto del 1960 che vendette la casa a Città Sant'Ange e compro una casa in una traversa di Via Davolos che si chiamava Via Fonsi forse c'era l'unica casa e poi c'erano molto più avanti delle case popolari vicino allo stadio e pertanto adesso è pieno pieno è la grande famiglia Sciarra che ha costruito tutte da quelle parti però a loro non c'era niente io ero molto malinconico quel giorno perché stavano facendo questo trasferimento non me ne volevo andare da Città Sant'Angelo tant'è che io ho giocato ancora con loro per due anni prendevo la bicicletta da Via Davolos andavo a Città Sant'Angelo giocavo con loro e ritornavo a Pescara non so se ti rendi ogni giorno ogni giorno è dura? ogni giorno no immagina tu che tipo di piscico ringraziando Dio mi aveva dato anche perché è completamente ancora in forma ma vabbè adesso però c'è l'età che ormai purtroppo distrugge tutto e quindi pertanto sentivo delle urlare a piedi sono arrivato fino all'angolo proprio di Via Pepe Via Davolo se ho visto questo stadio enorme e la gente che urlava siccome non tenevo il biglietto niente ci stavano le inferriate sono zumbate sono zumbate come una lepra e mi sono settata alla curva nord sono salito sopra e da lei è nato quest'amore per il Pescara per queste maglie biancazzurri e oggi sono 53 anni che sono tifoso del Pescara in modo sconsiderato e pertanto questa passione poi sono arrivato alla televisione perché perché tanta è la passione che ho visto un mare di partite di ragazzini io vedevo di tutto non so nella mia vita quante partite avrò viste perché era solo suscito di grande passione poi sono arrivate queste televisioni locali in cui ho incominciato con delle telefonate insieme a Caroselli sono William Caroselli io dicevo sono Sembroni a cose nate poi c'è la voce baritonale poi davo certe mazzate che erano terribili cioè dicevo pane pane vino al vino e da lì è andata l'esplosione e credo sia una trentina d'anni che faccia televisione però una frega popolarissimo Gianfranco Sembroni una frega di popolarità ma manca una lira per dirla per dirla papale papale cioè ci sta tanta gente che fanno trasmissioni beata loro e gente fortunata fortunata fanno delle trasmissioni e quando li senti dici ma nella vita proprio ci vuole fortuna non c'è niente da fare però loro guadagnano e Sting sembra lupale però mi fa immensamente piacere ma perché è così seguito perché dice la verità nuda e cruda così come si presenta o perché la gente proprio è innamorata di questo suo modo schietto e sincero di esprirsi no perché in me vedono lo sportivo normale di strada tutto quello che vorrebbe dire lo sportivo io ho avuto l'occasione perché stavo davanti a delle telecamere ma tanti altri condividono questo mio modo di essere di apparire e di dire con molta schiettezza sincerità senza fronzoli senza mezzi termini capisci che e probabilmente ho detto sempre panna al pane vino al vino cioè carnevale si sono detto Sibiglia la piate tanto per fare un no per papere di richiamo perché capisci il modo come si comportava che Puyucca a pallone era un grande giocatore però si ricorda quando disse a Ottavio Palladini rivolgendosi anche agli interlocutori di turno di quel salotto televisivo Palladini state nella casa si ricorda che c'era un sacco di ospiti come dice allora Palladini si rivolse anche alle telecamere state la casa ma mica Palladini e chi le può toccare ma te Bruno Paci Palladini com'è per te com'è ma Palladini non si tocca Palladini state la casa e così l'ho ridetto anche in altre situazioni gli giocatori del Pescaro ultimamente sono detto allo Presidente fa una cosa a chi ha presi giocatore mettele dentro lo pullman porti lo pullman alla punta della molla e fai su un pa in mezzo lo fiume Pescaro mettele là dentro perché tanto ne serve nicio ma è una forma di battuta per dire che è gente che non conosce non sa che cos'è l'amore che cos'è il rispetto per una maglia è stato esplicito anche verso la difesa del Pescaro ha più ripreso una difesa super perforata perché lei ha sempre detto mai una taccarata mai una botta legamenti niente come le signorine entrano in campo se tu pensi che noi contro la Juventus per dirne una abbiamo fatto 7 falli la Juventus 14 cioè noi ci dobbiamo salvare e loro sono quelli vincenti Nutella ma fa minimi 57 falle e loro forse 7-8 niente capisci per dire che cosa che se tu non so pericolo la tecne con la grinta la volontà il fisico la tenacia la corsa a dove? a dove te presenti? cioè con una squadra tecnica ti massacra di più loro sono tecnici e corrono pure tra parentesi quindi la Juventus è quella che è ma per dire questo per esempio siamo andati a Roma per giocare contro la Lazio che noi con la Lazio ce l'abbiamo ammorto con i tifosi ma sempre calcisticamente parlando senza andare oltre noi non abbiamo fatto un fallo ma non ci hanno fatto due gol senza fare neanche un fallo e noi ci dobbiamo salvare quindi è inutile parlare per se un comportamento da signorine come lei ha più volte sostenuto sì questa è pure discussione solo che non si può fare niente perché purtroppo quest'anno la società gli ha detto male ma io sono sempre con il presidente Sebastiani fino alla morte perché ritengo che sia il primo tifoso del Pescara a qualcuno da pastiglio che io dipendo la società e se il signor Sebastiani anche se spesso e volentieri è stato critico nei confronti della società come? io sono critico verso la società perché quest'anno ha sbagliato ha sbagliato io l'anno scorso ho cercato di dire io spero che l'erroristica sia un 30% purtroppo perché è raro ma non meste poi purtroppo si è rivelato il 90% e quindi purtroppo non abbiamo fatto niente a chi invidioso della sua popolarità dice che lei è un umorale a seconda di come si sveglia la mattina è critico o favorevole nei confronti della società no no assolutamente cosa risponde? cerco di dire sempre quello che penso è chiaro che non do addosso alla società perché tutti possiamo sbagliare questi qua in tre anni ci hanno portato in Serie A e quindi dei risultati non bisogna negarlo sotto gli occhi di tutti questa è l'evidenza dei fatti quest'anno in Serie A purtroppo non ce l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto gli stessi errori del passato cioè arrivare in Serie A non ci puoi arrivare bam bam d'amblè ci devi arrivare in un modo programmato cioè quest'anno tu fai una squadra bene fai dicono la stupidà 58 punti in Serie B il prossimo anno il prossimo anno ritocchi quei punti dove secondo te sono diventati erano più deboli metti queste sostituzioni riparti per un campionato se ti riesci anche vincerlo però sei arrivato dopo due anni di esperienza di grande esperienza con una formazione bella forte con qualche ritocco in Serie A ci puoi rimanere ma fermo restante che noi dobbiamo trovare sempre e comunque dei giocatori io dico sempre prima dobbiamo trovare l'uomo prima gli uomini che poi fanno i calciatori è una cosa differente non prendi il calciatore tanto per prendere cioè tu prendi vai ha una grandissima dote calcistica però lui purtroppo con la testa non ci sta non ci sta perché non è un comportamento non si comporta da atleta lo stesso Balotelli che adesso ha capito come si deve sembrerebbe che abbia capito come ci si comporta nel calcio perché con tutte queste partite che ci sono un atleta non può concedersi certe libertà che possono nuocere al tuo fisico questo è il concetto di base se tu dopo una partita a me mi hanno sempre insegnato che dopo una partita il fegato è sempre molto compito per la fatica che fa se tu dopo la sera ci vai a mangiare e ci bevi una frega sopra tu lo sderrino lo fegato e quello si sta riprendendo è come se adesso il fegato dovrebbe facendo una metà si va a dormire si vorrebbe riposare se tu invece la butti bevi lo cognac ti fai una serata brillante no il giorno dopo vai a dormire ti vai a mangiare una pizza qualcosa con gli amici questo dice il calcio o qualsiasi tipo di sport poi il giorno dopo vai a dormire il giorno dopo la sera ti puoi concedere anche la serata di allegria ma devi essere razionale nei tuoi comportamenti noi purtroppo i nostri atleti non sono atleti razionali poi non lo so che è successo quando sono andati in ritiro questa gente mi sembra che cammini in mezzo al campo non so che è successo ma non mi sembra una squadra se tu guardi una serie B oggi va 280 all'ora il Pescara cammina loro corrono il Pescara cammina quando mi riferivo a degli uomini io dico che prima devi scegliere l'uomo che vuol dire questo che io devo avere una persona seria precisa capace di attaccarsi alla maglia attaccarsi alla maglia ma anche un rispetto di se stessi e anche la sua dignità cioè comportarsi da professionista poi viene il calciatore però prima viene l'uomo il giorno in cui la nostra società il nostro presidente Sebastiani si renderà conto con il nuovo e futuro direttore sportivo che in questi giorni si stanno facendo un mare di sondaggi però io credo che quello che vorrà che vorranno prendere cioè quello che vuole la gente non lo so se lo prenderà il signor Sebastiani è un peccato e sarebbe il signor Nucipora che poi lui deve scegliere l'allenatore qua già mi stanno dicendo che il Pescara ha già scelto l'allenatore non lo posso pensare perché prima si sceglie il direttore sportivo al quale consigliandosi con la società sceglie anche l'allenatore però c'è un personaggio come Zeman che potrebbe in qualche modo condizionare i piani no ma ormai Zeman per me Pescara per il momento non viene più no io non credo che venga quest'anno mi sembra una cosa molto remota per me non viene certo che se viene io l'ho contestato diciamo come allenatore grandioso come uomo si è rivelato molto meschino per come si è comportato verso la città di Pescara però se uno mi dice ritorna Zeman io metto da parte capito il mio cuore dice lascia perdere pazienza è andata così perché devo ammettere che come tecnico è eccezionale se trova i giocatori pronti al sacrificio a Roma non ha trovato i giocatori pronti al sacrificio se ne è lamentato con la società la società capata invece di cacciare i giocatori negativi hanno tolto il Zeman vedi la stupidità di certi personaggi titolari oppure direttori generali eccetera eccetera non ragionano perché quello è un se la Roma ecco guardate io faccio l'esempio di Totti Totti a 36 anni va a 280 all'ora il prossimo anno Totti senza Zeman non sarà più così vedrete Totti che avrà parecchi incidenti se continuerà a giocare perché l'allenamento di questo grandissimo professionista sa in ogni giocatore che tipo di capito che tipo di sforzo può raggiungere come si deve allenare che tipo di carico di lavoro esatto è eccezionale per queste cose tant'è che noi abbiamo visto Verratti anche un altro esempio di Verratti Verratti cammina a 280 all'ora quest'anno incomincia a prendere gli infortuni anche se è un bravissimo giocatore con lui non è successo solo infortuni a botte capite lievi ma non capite di natura fisica giocatore ritrovato è meraviglioso ecco da questo marasma generale Pescara è ultimo in classifica lo voglio ricordare purtroppo nel massimo campionato di Serie A c'è qualcuno che salverebbe Gianfranco Semproni qualche giocatore che magari ha mantenuto le promesse della vigilia o sono tutti da rottamare giusto per usare un termine colorito io ti posso dire che mi sono permesso di fare un elenco di chi poteva rimanere ho fatto vedere la mia trasmissione un paio di settimane fa la trasmissione a muso duro su Telemax mettendo un asterisco a quelli mezzi pazzi tipo Weiss tipo quelli capite che non conducono una vita precisa è un ottimo giocatore ma non credo che rimani in Serie B perché se si comporta bene l'asterisco vuol dire se tu ti comporti da uomo vero e poi ho messo una pallina tipo Coldroop tanto per intendere si deve vedere se vuol giocare in Serie B quindi ho fatto un elenco di giocatori anche che devono rientrare e credo e ho fatto anche una formazione facendo un modulo un 4-3-1-2 a me piace molto questo tipo di modulo ma poi i moduli la gente si riempie la bocca i giornalisti non macelle il modulo è sempre quello tu puoi fare tutte le moduli che ti fai 4-4-2 4-3-3 e non corre tanto per correre correre con con intelligenza con scienza e scienza tutte cose devi metterci amore passione devi fare il professionista devi essere legato alla città di cui indossi la maglia cioè quella maglia ormai i giocatori oggi stanno contenti domani ecco Milan poi vanno all'Inter dall'Inter ma come fai a mettere la mano sotto e batti il cuore che te batte lo cuore tu devi mettere la mano alla saccoccia e da far cucire che lo porta poi si riempie sempre di più non qua al cuore il cuore un'altra cuore tu metti la mano dentro e più cuciti belle le sorde capito quindi io sono forse sarò un uomo del passato nel senso quello che penso io sono un tipo che se fossi rimasto in una società ecco alla Gigi Riva l'avrei pensato Gigi Riva non è andato mai via da Cagliari nonostante che la Biuenzi gli ha fatto ponti d'oro lui è rimasto a Cagliari per dire la passione verso la città che ti ha adottato calcisticamente e tutto l'amore che tu dai per loro ecco questa è una cosa lei ha più volte detto di avere nostalgia di un grande personaggio che ha vergato delle pagine importanti del calcio biancazzurro come Tom Rosati la nostalgia di quel calcio come no di quel calcio Tom Rosati per me non si tocca è stato il più grande sarebbe attuale anche nel calcio io che sa io io oggi con la preparazione che farebbe il signor Tom Rosati ci ho caioio che le squadre cioè caioio nel senso praticamente che siccome si allenano i passiamo sopra come le carro armate sopra le altre squadre per il tipo di allenamento lui portava tu devi sapere che sei giovane portava la squadra davanti alla Perla Rosa al mare e faceva allenare i giocatori sopra la spiaggia perché noi abbiamo questo dono di pescare di avere la sabbia e l'allenamento sulla sabbia è fantastico tant'è che tutti i brasiliani che giocano sulla sabbia se tu vedi hanno una tecnica raffinata e anche una potenza fisica poi poi da Salacocci non ci tenne niente però purtroppo a livello perché gioca una mattina e sera sulla sabbia e lui faceva questo tipo di allenamento ma poi era un uomo che sapeva la gente si ricorda gli schiaffi a Cozzella ma gli schiaffi a Cozzella erano semplicemente un indice per far capire noi vinciamo 2 a 0 e tu ti fai caccià molti sderrine era un insegnamento una carezza per certi versi è una carezza capite allo fratello sotto lo spogliatoio sotto lo banchetto per quanto s'ambatireva se superava la metà campo e che la metà campo lui la prima cosa era non prenderle e poi darle cioè era un uomo e poi aveva una grandissima capacità di saper scegliere i giocatori non dimentichiamo che lui ha portato Rasi ha portato quel centravanti della Roma che adesso non mi viene il nome ma adesso poi mi verrà il nome poi ha portato Repetto Zucchini ha portato Nobili gente che ci hanno fatto sognare gente che ha onorato questi uomini Repetto Razzi Zucchini Nobili hanno onorato questa maglia a Biancazoni Santucci Santucci poverino che è morto gente che era legato a questa maglia ed era tutta un'altra storia tutta una oggi può darsi che questi giocatori di oggi amano solo il vino e il denaro la Porsche Cayenne lo cellulare fanno le tip ad andare a trovare la velina per farsi la scopata di turno non sanno che la velina ti sderrini quelle se ti succhia ti fanno come una panocchia ti leva tutta la parte il midollo osso e te le succhia tant'è che io faccio sempre la solita battuta dicendo quando Coco andava con l'arcura e dice ah Coco o ti fai la fascia o ti fai l'arcura se fate l'arcura lasciate la fascia era un terzino di fascia eccezionale si è perso ma questo mio è sempre un esempio che cito capito perché oggi sempre sportivamente sempre calcisticamente sportivamente parlando però sempre da fare sempre lo professionista le chiacchi si porta lo vende perché io ho sempre detto e lo ripeto per l'ennesima volta che la donna sessualmente è cento volte superiore all'uomo ti sderrini quelle ti sessuali come una panocchia e lo ripeto e invece l'uomo dice ma noi io tengo le musse che sono un bello fisso che sono un bronzo di riace come il David di Donatello con un pistolino che poi funziona e funziona lascia perdere questo signore praticamente gli ho concesso agli uomini di farsi giocatore una tripletta il lunedì una tripletta il martedì una tripletta il mercoledì lo giovedì andiamo a vedere questi giocatori che si stanno a fare le fleb all'ospedale perché stanno per partire la donna invece come diceva il famoso film di Sergio Leone c'era una volta le West dice caro Claudia Cardinali al bandito voi ne siete 50 io vi faccio tutte 50 chi vuol capire capisce lei che è una memoria storica del calcio pescarese può dire in questa sede seduti comodamente a tavola all'interno del ristorante la rete di Pescara qual è stato il Pescara che l'ha entusiasmato maggiormente e viceversa qual è stato il Pescara che l'ha delusa profondamente allora è stata la prima promozione con Cadet facevamo gol però era la squadra di Tom Rosati con qualche piccolo ritocco e la delusione più grande è stata il signor Galeone la seconda che siamo retrocessi perché il secondo anno noi facevamo dei grandi risultati a Roma e vi discorrendo comunque eravamo a giocare una partita contro l'Atalanta mancavano 7-8 partite e con l'Atalanta ancora c'era la Coppa delle Fiere una cosa Coppa UEFA non lo so se già era uscita con l'Atalanta eravamo pieni pieni che se avessimo battuto l'Atalanta noi non solo raggiungevamo ci mettevamo in una posizione di classifica molto buona per poterci salvare ma allo stesso tempo andravamo su questo lotto di concorrenti 30.000 persone lo stadio pieno pieno quella partita la perdiamo la perdiamo delusione pazzesca e poi giocando con Brescia ricordo Como Ascoli squadre siamo retrocessi il primo anno ci salvamo perché c'era Lempoli che aveva 6 punti o 5 punti di penalizzazione non riusciamo a fare penulti perché credo se ricordo bene retrocedeva una squadra sola perché c'erano 16 se ricordo bene non è che sia facile lei ha ricordato il Pescara di Giancarlo Cadet e il Pescara di Zeeman della passata stagione che ci ha riportato dopo 20 anni in Serie A scuote la testa scuote il capo perché? non l'ha entusiasmata? no come no mi ha entusiasmata mi ha dato delle sessioni di gioco meravigliose però non ci dimentichiamo che anche quell'anno famoso l'anno scorso i giocatori la scusa della neve vi riscorrendo sei partite abbiamo preso un punto solo e stavamo rischiando di perdere tutto perché? perché si concedevano in atto ormai si sentivano premi in classi la vita notturna lei la denunciata esatto anche perché pensavano che già erano arrivate tu invece la Serie B è quello che è di massacra la nostra fortuna che è stata che mentre noi perdevamo le altre sopra non vincevano è come se ci stesse aspettare dopo di che ci fu questa da parte mia una denuncia proprio in televisione probabilmente la società e chi per loro hanno controllato di più questi giocatori oppure tutti quanti si sono messi si sono guardati in faccia hanno detto come mi fa da Gross vogliamo dare questa gioia eccetera eccetera quindi si sono ricompattati tutti quanti hanno fatto quadrato hanno fatto quadrato e non abbiamo perso più una partita addirittura arrivando prima del Torino un record proprio sì anche perché quella domenica è stata pazzesca mentre noi segnavamo al secondo minuto di recupero il Torino andando ad Albino Leppe non è riuscito a battere l'Albino Leppe loro hanno pareggiato noi abbiamo vinto con la Nocerina e con sta mazzata hai capito? visto il nostro centravanti che adesso è stato di maniero arriviamo addirittura prima con una grandissima soddisfazione che tu manchi delle immagini a proposito di denunce Gianfranco Semproni io non vorrei farle andare il boccone di traverso ma è vero che l'hanno denunciata più volte per le sue affermazioni in passato o sono solo leggende metropolitane quelle che si dicono in città perché lei è un personaggio chiacchierato a Pescara e non solo a Pescara non solo chiacchierato ma quando cazzottiate sono fatta che tu neanche te l'immagini con l'Asiana a Udine c'è una storia giocava c'era un fischietto di Firenze non mi ricordo adesso il nome il nostro allenatore era Giagnoni Gustavo e io stavo in mezzo ai dipostiti ai distinti non ti dico le offese che ci hanno fatto e quest'arbitro Fiorentino che non mi viene il nome sto delinquente e ci annulla gol insomma avevamo giocato una bellissima partita ci dovevamo sapere e questa qua sembra inveire capite cornuti terroni non ce le sono fatti più non ce le sono fatti più sono alzato da solo ho detto le parolacce ci mettiamo poi il bip si ah ci mettete il bip allora va a fangula metteteci lo bip a fangula tutti questi nordisti si state offendendo la cosa allora si alza uno una montagna si lasciatelo a me che lo devo tritare allora dentro di me sono detto uno ne può assisterne qua con lui come faceva i passi per salire verso di me si gli sono dato una puntina capite un calcio sotto al basso ventre ai testicoli sono apparsi in bacio alle orecchie alle orecchie tenevele i testicoli oh dio sono sentita e poi tutta la gente che mi ha sbattato in colma mi sono sbiata a Bologna a mia moglie a quel tempo mi avevo detto che ero andata a una riunione di lavoro quando mi sono sbiata alla perdina in una di quelle per non parlare delle grandi cazzottiate che le lasciate io porto la protesi sotto c'ho tutti i denti sopra porto la protesi per quando a legnate sopia salvando anche un ragazzo di quattordici anni ho piato una sprangata di pesa vedi qua questa cicata una sprangata di pesa e ho salvato mi sono mucchinato per salvare sto ragazzo un comportamento stoico ma comunque erano delle belle cazzottiate poi quando mi sono svegliato a Bologna nel caso di Udile c'era mio cugino che mi guarda siccome mio cugino era biondo mi diceva ma che stai in paradiso già sono arrivata allora lui in dialetti che è il primario cardologico al Sant'Orsa ma quale paradiso stai qua un dì e ti fatti da tutte le mazzate me ne frega ma uno li sono stesi sì uno li stesi sicuro tranquillo li stesi a quello che poi non ti dico e per dire queste sono delle le denunce le ho prese le prendo perché spesso e volentieri mi dico quello che penso se uno ruba lo cito e la gente è anche invidiosa della sua popolarità mi dispiace c'è una popolarità invidiosa quando invece ci sta moltissima gente che mi ama moltissima guarda ci sono lo sappiamo anche noi guarda di segnali di stima che mi fanno quasi piangere gente di 80 anni vecchi giovani una cosa impressionante non riesco a vedere in mezzo a questi qua si dice in dialetto l'invidia slarmagna la gente è vero che poi che cosa mi invidiano io ne acchiappe una lira e che acchiappe dici con su acchiappe una frega di soldi niente dico quello che penso vi facci divertire e mi invidiate pure allora siete sceme se io al limite io non sono neanche i sette pene capitale l'invidia sta fra i sette pene capitale io neanche la conosco l'invidia l'accidia l'odio capisci la lussuria non le conosco non sono mi sento talmente semplice quindi alla gente c'è un altro rubo e dico quelle per sé certo recentemente Gianfranco Semproni è stato attenzionato anche dalle telecamere di striscia la notizia di canale 5 no vabbè quella è stata una battuta perché io ho detto una situazione che c'era mi si è creata e l'ho detta in modo spontaneo come sono sempre ma ci immaginava che uno potesse arrivare là ma non mi interessa più non me ne frega niente anche radio 24 101 le teleponate si sprechiamo però tutti assentiti ma ci stesse cacchino guarda che si bit di metano cacche cose che mi manca se vengono a lì manca se ti smetti all'interno a proposito in conclusione ci troviamo in addirittura d'arrivo Gianfranco Semproni sogna e che cosa sogna caro Minucci da ragazzo io avevo un cassetto pieno di sogni pieno di sogni non puoi immaginare quanti sogni avevo cioè ma sogni di fare il calciatore sogni di diventare un bravo imprenditore sogni perché anche un bravo imprenditore lo hai diventato il calciatore no e lo abbiamo detto prima no diciamo come imprenditore sono stato responsabile di varie aziende quando io ho lasciato Roma per venire a pescare tutti mi volevano quando nessuno ti voleva pagare capite come al solito però la mia esperienza nel campo delle vendite credo che sia 46 anni proprio enorme facendo tutti i passi la gavetta sono uno che è stato premiato a New York come miglior agente mondiale all'Empire premiato a 22 anni dalla Plasmono come miglior agente italiano per i formaggini polibiri ancora c'è la medaglia di Cristoforo Colombo eccetera eccetera poi ho fatto la mia carriera eccetera però il mio sogno era se avesse diventato tu pensi il presidente del Pescara uno dei sogni presidente del Pescara che la cocci che mi ritrovai lì giovanile l'onestà intellettuale attorniassi solo di professioni come ho fatto sempre nella mia vita i miei successi non sono stato bravo io io sono stato bravo a trovare i collaboratori le formichine io sono stato bravo che poi mi davano a me là è stata la mia bravura non per cacocciare attorniarmi di grandi migliori di me allora mi fa cacca qualcosa ma hanno dei pauri che cacca di un te frega la poltrona ma se c'è incassettati come me le fa fregare siete voi che vi preoccupate di queste cose io no non mi preoccupo perché mi dovrei preoccupare io ho scelto io peccato che il tempo è tirano un'ultima un'ultimissima battuta Gianfranco il pescare è già in serie B o ci potrebbe essere un miracolo dall'alto della tua esperienza che cosa senti allora io ho detto in televisione se il pescare si salva sul campo non per i pescaggi eccetera eccetera io mi faccio frate mi faccio frate però la gente dice dopo non l'hai promesso tu lo prometti ma dopo non lo mantieni questa è una cosa del signore perché io sono cristiano non cattolico ma è lungo la cosa non c'è tempo quindi grazie a Gianfranco amico di sempre amico schietto e sincero grazie a tutto lo staff del ristorante La Rete di Pescara che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara grazie a voi per averci scelto da casa l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni ciao a tutti dai un senso alla tua estate iscriviti subito al tour 2012 di Miss Adriatico concorso di bellezza internazionale Miss Adriatico la tua grande occasione chiama subito 337 91 71 11 e visita il sito www.missadriatico.it www.missadriatico.it